Benvenuti nel mondo degli orologi Gaga Milano. Gaga Milano è un marchio di orologi di lusso fondato nel 2004 a Milano. Il marchio è noto per i suoi orologi audaci e innovativi, che spesso presentano dettagli unici come cinturini in pelle di coccodrillo e quadranti in madreperla. La filosofia del marchio è quella di creare orologi che siano espressione dell'arte e del design di Milano, città che rappresenta la massima espressione dell'arte e del lusso in Italia. Il fondatore di Gaga Milano, Ruben Tomella, ha creato il marchio con l'obiettivo di offrire orologi di alta qualità che fossero al tempo stesso accessibili e innovativi. L'idea era quella di creare orologi che fossero espressione della cultura milanese, che è sempre stata al centro dell'arte e del design italiano. I primi orologi creati da Gaga Milano erano caratterizzati da un design audace e innovativo, con quadranti colorati e cinturini in pelle di coccodrillo. Gli orologi Gaga Milano sono disponibili in diverse collezioni, ognuna delle quali rappresenta un'interpretazione diversa dell'arte e del design di Milano. Ad esempio, la collezione manuale rappresenta l'eleganza e la raffinatezza della città, con orologi dal design classico e sobrio. La collezione Napoleone, invece, si ispira all'arte barocca e al ricco patrimonio culturale di Milano, con orologi dal design audace e ricco di dettagli. Oltre alla scelta di quadranti e cinturini, i clienti di Gaga Milano possono anche scegliere il tipo di movimento dell'orologio. I movimenti disponibili sono quelli automatici e quelli al quarzo, entrambi di altissima qualità e precisione. Inoltre, gli orologi Gaga Milano sono dotati di una cassa in acciaio inossidabile di alta qualità, che garantisce la resistenza e la durata nel tempo del prodotto. Gaga Milano è un marchio in continua evoluzione, che guarda al futuro con ottimismo e determinazione. Il marchio ha recentemente lanciato una nuova collezione di orologi smart, che coniugano la tradizione e l'innovazione in un prodotto unico nel suo genere. Gli orologi smart di Gaga Milano sono dotati di una serie di funzioni avanzate, come la possibilità di monitorare la propria attività fisica e di ricevere notifiche dal proprio smartphone. Gaga Milano è un marchio che ha saputo unire l'arte e il design di Milano con l'innovazione tecnologica, creando un prodotto unico nel suo genere. Il successo del marchio è testimoniato dalla sua presenza in diversi paesi del mondo, dove gli orologi Gaga Milano sono apprezzati per la loro qualità, la loro innovazione e la loro bellezza.